Come si è visto dall'azione? È stata un'azione veloce, l'ho presa, mi è picchiata sulla coscia, poi involontariamente mi è battuta sulla mano, ma visto che l'azione comunque era veloce, è stato un gesto istintivo, ma manco io me ne sono accorto. Poi vedendo dopo, in alcune angolazioni si vede che picco la coscia e mi rimbalza fuori l'appellone, mentre in altre immagini si vede che magari impie sulla coscia e poi mi becca la mano, ma involontariamente, quindi non penso manco che ho sentito dire alcuni che ho fatto poi il gesto dell'ombrello per buttare fuori la palla, si diceva così a Genova, quindi tutti i colori. Comunque niente, non è stato un gesto involontario, che manco io me ne sono reso conto. Parliamo di questa partita del Pescara nella tua Genova, nella tua regione, una partita particolare con tante emozioni, ancora una volta in 11 contro 9 non siete riusciti a vincere, ma avete comunque conquistato un punto importante, anche perché il gol è arrivato alla fine. Sì, sì, abbiamo provato la partita bene, abbiamo modificato qualcosina, abbiamo messo un po' davanti il mister. Visto che loro comunque giocavano molto sulle fasce, mi hanno messo a marcare tre virgolette d'axalte così per limitare un po' le offensive loro e poi ripartire di conseguenza. Abbiamo fatto un gran primo tempo e poi siamo entrati il secondo tempo non benissimo, infatti abbiamo preso gol ed è un atteggiamento che doveva migliorare molto. E poi niente, ho fatto un 1-0 e siamo riusciti a recuperare comunque la partita, che comunque è un punto sempre a Marassi e buono contro il Genova, quindi per comandata la partita potevamo magari vincere la partita, ma potevamo anche perdere, quindi è andata bene così. Sabato a Pescara arriva il Chievo Verona, partita a questo punto da vincere, manca un po' la vittoria al Pescara, manca lo spogliatoio, la conquista dei tre punti. Sicuramente, anche perché abbiamo raccolto poco di quello che abbiamo fatto, quindi sicuramente una vittoria in casa davanti al nostro pubblico ci darebbe una grande mano.